Un altro evento che ogni anno richiama pubblico da tutta la Romagna è il processo del 10 agosto a San Mauro Pascoli. Quest'anno avrà un impottato molto speciale, Pellegrino Artusi. Sì, beh, noi negli anni abbiamo processato moltissime persone e abbiamo posto una particolare attenzione alla Romagna e ai romagnoli. Non perché siamo campanilisti, tutt'altro, però perché pensiamo che la Romagna abbia delle qualità e dei personaggi tali che si prestino a essere esplorati e indagati. I telespettatori sapranno che il nostro processo è un processo che si fonda anche su forti basi e documentazioni scientifiche per cui comunque con la dinamica processuale ci sarà un'accusa, cioè un pubblico ministero, una difesa con un avvocato della difesa, testimoni ed altro che cercheranno di dimostrare quest'anno se Pellegrino Artusi sia ancora attuale o sia superato, ovvero se sia moderno e sia superato. Certamente tutti quanti sanno che Pellegrino Artusi è uno dei fondatori della cucina italiana, oltre che dei fondatori in qualche modo dell'Italia attraverso il suo libro, attraverso i suoi italiani, eccetera. Quindi, insomma, è uno dei padri della patria e noi vogliamo capire se sia ancora attuale, se il suo insegnamento sia ancora valido oppure no. Dunque è sempre quello collaudato ormai da 13 anni? Sì, un format, come si dice, che funziona non si cambia, nel senso che la dinamica del processo ha questo vantaggio, che spettacolarizza il tutto, poi la serietà dei relatori, della condizione e tutto, garantisce però che, insomma, chi viene a vedere il processo, e sono centinaia e centinaia di spettatori, la torre è sempre piena il 10 agosto, avrà comunque delle proposte, delle motivazioni serie e fondate. Chi però garantisce il tutto è la dinamica processuale che aumenta l'aspettacolarità. Poi la cosa finale, che è il voto del popolo, il plebiscito, insomma, l'intervento popolare, riesce anche a coinvolgere i presenti e quindi aumenta ancora di più l'emozione e la partecipazione.